Il Movimento 5 Stelle è pronto a depositare nelle prossime settimane, nelle prossime ore una proposta che ha d'oggetto l'istituzione di una super zona energetica speciale per quei territori che sacrificano suolo e mare a favore sia dell'estrazione di idrocarburi di raffinazione con un vincolo di scopo che leghiamo alle accise prodotte al fine di destinare poi questo ristoro alla creazione di questa super comunità energetica in modo tale da far arrivare dei vantaggi concreti, immediati ai cittadini e alle imprese che si insediano nel Mezzogiorno Italia. In questo modo noi andiamo da una parte a combattere la desertificazione demografica e dall'altra parte ci prefiggiamo di combattere e contrastare la desertificazione imprenditoriale perché attraverso le comunità energetiche che favoriamo andiamo ad avvantaggiare le imprese che si insediano nel Mezzogiorno Italia ed inoltre nell'ambito di questa proposta andiamo poi a regolamentare una norma sugli extraprofitti delle imprese energetiche con una destinazione di scopo di questo contributo di solidarietà a favore della ricerca dell'agroalimentare e del turismo.